Bene trovate amici bianconieri, un saluto al vostro BJ, ci tenevo tantissimo ad augurarvi a tutti carissimi miei amici che mi seguite ad augurarvi buone feste, una buona Pasqua e una buona Pasquetta. Poi c'è una cosa importante, un interista mi ha regalato un uovo di Pasqua. Eh sì, questo interista se presentate mi fa guarda BJ ci teneva a regalarti questo uovo di Pasqua. Ho detto ma sei sicuro? Mi fa sì, ci tenevo tantissimo. Allora voglio aprire insieme a voi l'uovo di Pasqua regalato da un interista gioventino. Vediamo cosa c'è all'interno, andiamo a togliere il fiocchettino, togliamo il fiocchettino, ecco qua per bene, e vediamo cosa contiene l'uovo di Pasqua interista. L'uovo di Pasqua interista, ecco qua, ecco qua. All'interno abbiamo l'uovo dell'Inter, che eccolo qua signori miei, l'uovo dell'Inter. L'uovo dell'Inter lo andiamo ad aprire insieme perché voglio vedere cosa c'è dentro, cosa c'è. Ecco qua, wow, hai visto, hai visto? Eccolo, eccolo, eccolo qua signori miei, lo scudetto di carta. Ma signori miei, a Pasqua, in un uovo di Pasqua interista, ma cosa volevate trovare? L'uovo di Pasqua, e allora l'uovo di Pasqua, lo scudetto di carta, lo scudetto di carta degli interisti. Guardate signori miei, ogni tanto un bel sorriso ci vuole anche in questi giorni, perché si sa, nella vita non c'è solo calcio, nella vita ci sono anche tante altre cose, problemi, problemi e problemi. E noi cerchiamo anche in questi momenti di regalare un sorriso, specialmente a chi ne ha bisogno, gli interisti. Doniamo a Pasqua, tutti insieme, uno scudetto di carta. Signori miei, non è un video lungo, non parlerò di calcio, non parlerò di Juve, volevo augurarvi seriamente a tutti buona Pasqua, buona Pasquetta e felice feste. E dal vostro BJ, fino alla fine, forza Juventus, io mi ne voglio, o sa bene che a tutti i picciotti, ciao!